Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci siamo ragazzi. Ieri abbiamo giocato in live la demo di Final Fantasy VII Rebirth e abbiamo potuto assaporare il nuovo sistema di gioco in generale, il nuovo sistema di combattimento. Abbiamo utilizzato Sephiroth giocabile e ragazzi è durato poco, perché mi rendo conto che sia durato poco, ma abbiamo giocato nei panni di Sephiroth. Cioè è una cosa che aspettavo da circa 20 anni praticamente e finalmente ho realizzato parte del mio sogno, quindi poter utilizzare Sephiroth. Ma oggi non siamo qui per questo. Oggi siamo qui per guardare insieme il trailer finale, per l'appunto rinominato in questo modo, di Final Fantasy VII Rebirth. Quindi probabilmente l'ultimo trailer che vedremo, ultimo sarà il launch trailer, quindi quello che verrà rilasciato poco prima del lancio, verso fine mese. E quindi qua adesso abbiamo praticamente tutte le informazioni e possiamo in un qualche modo collegarci a tutte le possibili speculazioni che abbiamo fatto durante questi anni o fondamentalmente parlando questi ultimi mesi. Ne ho fatti diversi, video teoria, video speculazioni, che se volete recuperare vi lascerò praticamente tutti quanti nelle schede qui a fianco. Però ovviamente ci sono alcune cose di cui effettivamente dobbiamo parlare, che approfondiremo a mano che vedremo il trailer. E poi successivamente vedremo un pochettino anche delle novità che sono state inserite in questo trailer, ce ne sono un paio davvero interessantissime. E poi commenteremo alla fine il tutto lasciando un messaggio che sarà per l'appunto una sorta di speculazione finale, o comunque una sorta di messaggio che per chi è interessato alla saga spero possa ascoltare. Cominciamo. Cloud, bring me the Black Materia. Ecco, qui Sephiroth portami la Black Materia, è una cosa che abbiamo comunque visto anche nel set originale, dove appunto è Cloud stesso che consegna a voi successivamente la Black Materia a Sephiroth. E quindi diciamo che potrebbe in un qualche modo essere parte di ciò che dissi tempo addietro, dove Cloud effettivamente è manipolato da Sephiroth, ma soprattutto da Genova, in questo caso, potrebbe effettivamente diventare il vero cattivo della situazione. E potrebbe essere una bellissima sfumatura, in realtà. Qui invece è Tseng, che si ritrova praticamente ad entrare nel Tempio degli Antichi. Buonissimo come Katsin. Incredibile. Hey kids, sorry we're late. Rude che combatte Tifa è quasi illegale in questo trailer, sinceramente. Col fatto che Rude confessa che appunto lui in realtà è un po' invaglito di Tifa, vederlo combattere contro Tifa sembra quasi un controsenso, no? E poi vabbè, la sfida eterna praticamente tra Reno e Cloud che ce la siamo portata praticamente dal remake. Gli attacchi combinati, con ovviamente anche combattimenti per la mappa. E tra l'altro, sistema di combattimento molto migliorato rispetto al remake. Io ho rigiocato recentemente il remake, dopo aver ovviamente finito anche Final Fantasy XVI, ed effettivamente ritornare da un Final Fantasy XVI prettamente action, anzi totalmente action, a un Final Fantasy VII remake risulta essere un po' ingessato. Quindi movimenti diciamo un po' più irrigiditi, combo un po' più lente, gameplay un po' più lento in generale, ma è normale che sia così. È ovvio, il progetto remake ha comunque unito due stili di gioco in uno. Lo stile action, con i combattimenti action, e poi la barra TB, o comunque in generale lo sfruttare la barra TB per comandi, oggetti, evocazioni, eccetera, eccetera. Quindi secondo me al momento risulta essere comunque il risultato migliore, il prodotto migliore per quanto riguarda Square di giochi innovativi. Cioè unire praticamente innovazione e tradizione, secondo me, è la scelta più azzeccata per un titolo come Final Fantasy. C'è però da dire che Final Fantasy VII Rebirth, avendolo provato in demo, risulta essere molto più fluido. I combattimenti risultano essere molto più dinamici ed è una cosa che a me piace tantissimo. Ho provato appunto ieri la demo, combattendo, riuscendo in un qualche modo comunque a coordinare schivate, parate e attacchi, devo dire che il combattimento, il gameplay di combattimento mi ha convinto veramente tanto. Devo ovviamente poi valutare anche tutti gli altri personaggi perché ho utilizzato soltanto Cloud Sephiroth, quindi due personaggi che fondamentalmente sono melee, quindi vanno con attacchi a corto raggio, attacchi fisici a corto raggio, quindi bisognerà vedere anche come avranno migliorato il dinamismo in generale dei personaggi ranged, quindi immagino Barrett, immagino Eris, no? Vedere come effettivamente si potrà sfruttare la loro dinamicità all'interno del combattimento. Falmer, quindi Rocket Town. Ecco, qui invece non capisco, cioè vabbè non capisco, nel senso Corneo dentro praticamente il Gold Saucer con praticamente la stessa bestia che abbiamo affrontato nel remake, quindi il boss delle fognature, dove potete notare siamo praticamente nel Gold Saucer perché abbiamo la scritta Showdown, la scritta Red Corner, quindi siamo praticamente dentro l'arena del Gold Saucer, quindi possibilmente sarà una sorta di aggiunta, dato che comunque nell'arena del Gold Saucer si potevano affrontare questi nemici e dato che il nemico delle fognature è comunque collegato a Corneo, probabilmente qui sarà una sorta di cameo che hanno fatto proprio per magari, diciamo, citarlo o comunque per non lasciarlo nel dimenticatoio un personaggio del genere che, sinceramente a me, non fa né caldo né freddo. Quindi siamo sempre nella zona del Gold Saucer, nella prigione sotterranea. E qui, sorpresa delle sorprese, guardate la spada che tra l'altro si vede praticamente, la spada che si vede dietro è la lancia e abbiamo Gilgamesh. Abbiamo Gilgamesh, ma la cosa sorprendente è che comunque Gilgamesh noi non l'abbiamo mai avuto su Final Fantasy VII, quindi il fatto che comunque lui sia il Wonder of the Rift, quindi sia comunque il viaggiatore del tempo, il guerriero che viaggia praticamente tra le linee temporali, io non vorrei che quella spada sia per l'appunto un ricordo, un cimelio che è appreso da un'altra linea temporale. Qui abbiamo Roche, che si rivede finalmente, che però, se notate, Cloud in questo caso è vestito con l'uniforme da fanteria, quindi è molto probabile che questo combattimento avvenga all'interno del vascello, o comunque all'interno del traghetto, chiamatelo come volete, che ci porta da Junon fino a Costa del Sol. È molto probabile che possa essere una sorta di mid-boss fight o comunque un incontro proprio in quella zona, perché effettivamente non vedrei altre corrispondenze. D'altronde, Roche l'abbiamo già anche visto nello scorso trailer, dove si vedeva appunto la parata di Junon, e praticamente Roche era di lato, che praticamente stava accompagnando tutto il... stava accompagnando praticamente tutta la processione, quindi potrebbe averci sgamato, o comunque ci sgamerà probabilmente a Junon, o comunque dentro il traghetto di Junon, e quindi... qui Sefirot che abbraccia Cloud. E qui la frase che abbiamo visto in un altro dei trailer che abbiamo visto in passato. Perché il mondo sarà salvato, ma tu, con riferimento a lei, ad Eris. Qui ce lo fanno vedere palesemente. Allora, qui... Allora, c'è da dire che qui si potrebbe interpretare come appunto quel You, inteso come te, no? Quindi il mondo verrà salvato, ma tu... Potrebbe effettivamente essere inteso su Zack, che per l'appunto lo stiamo vedendo adesso nuovamente vivo, presente all'interno della storia, ed Eris invece a quanto pare in questo caso non sembra essere cosciente, perché per l'appunto è svenuta, quindi... viene soccorsa da Zack e non si sa se effettivamente sia vivo, sia viva. Io resto dell'idea, e ne parleremo ora appena vedremo la scena a breve, che Eris farà la sua fine, farà il suo percorso, come sempre. Quindi qua, a chi ci riferiamo? A Zack per essere salvato, o Eris? Questa è una scena incredibile. Questa è una scena incredibile, anche perché... non so se effettivamente questo luogo sia il sotterraneo di Cosmo Canyon, però nel sotterraneo di Cosmo Canyon noi non abbiamo avuto un colloquio del genere, con nessuno. Questo essere, perché effettivamente non so neanche come definirlo, non ho idea di chi possa essere, perché non ho letteralmente idea di chi possa essere, però sta dicendo tutte cose che sono molto emblematiche. Quindi riportare la materia nera all'oro... Cioè, potrebbero anche essere delle manifestazioni degli antichi, o non lo so effettivamente, perché riportare la black materia a l'oro per spezzare questa illusione senza fine... Cioè, l'illusione senza fine quale sarebbe, effettivamente? Cioè, a che cosa ci stiamo riferendo? Questa è una scena che a me mi ha... abbastanza turbato, in realtà, durante la visione del trailer, dove ho detto, ma che... Ho detto, ma cosa effettivamente... Cioè, di che stiamo parlando? Cioè, che cosa stiamo effettivamente discutendo con questo tizio? E qui, un'altra delle sorprese che, appena viste, siamo rimasti tutti un po' sgomenti, perché, ovviamente, lei è Sisney, confermata anche dal press kit e, ovviamente, anche dagli screen che sono stati rilasciati poi successivamente al trailer, Sisney, che si trova praticamente nelle zone di Gongaga. Sappiamo benissimo il perché lei si trova lì, sappiamo benissimo che lei comunque sia... ha aiutato Zack nella sua missione finale, chiamiamola così, e c'è il particolare... e appunto si vede il particolare, ora tra qualche secondo, appena rimetterò la produzione del trailer, del fatto che Sisney conosca Cloud, perché, giustamente, lei se lo ricorda. Solo che Cloud, giustamente, non essendo cosciente, non può in nessun modo ricordarsi di lei. Ecco, vedete, cioè, nel momento in cui lo vede, cioè, Cloud in quel momento invece si gira, la vede, dice, eh, chi cazzo sei? Cioè, nel senso, sei rossa, sei gnocca, sei figa, ma, oltre quello, non saprei effettivamente come inquadrarti. Lei, invece, lo riconosce subito. Johnny. Poi qui, Barrett Marinaretto. Eh, vabbè. Fun service totale. Tiny Bronco. E Kitesit. Ecco, probabilmente, Kitesit, o... cioè, Kitesit, Yuffie, Seed e Vincent, non verranno reclutati nel modo classico che conosciamo, perché sono abbastanza convinto che la sezione di Rocket Town verrà riassunta con qualche cutscene. Cioè, noi, praticamente, neanche entreremo a Rocket Town, probabilmente. Affronteremo, forse, solo la boss fight con Palmer, se tutto va bene. E, dopo di che, finirà la sezione di Rocket Town. Eh, la sezione del Gold Saucer, invece, sarà divisa, ovviamente, in due parti. dove poi, nella parte finale, quindi, in questo caso, proprio dove stiamo praticamente andando via, perché lì c'era, eh, praticamente, il buggy. E, stiamo andando via, eh, probabilmente incontreremo Kitesit. Anche perché, se vi ricordate, Kitesit, nel remake, si vede già Midgar, che, che prende visione di quello che succede, vede, effettivamente, quello che è stato tutto il disastro, eh, combinato dalla Shinra, e, e successivamente parlando, non si vede più. Yuffie, l'abbiamo vista nel DLC, Intergrade, eh, già presente a Midgar, e poi, ovviamente, fugge da Midgar, dopo aver perso Sonon, dove, dopo aver, diciamo, fallito, tra virgolette, la missione, per la quale, era stata inviata, lì, lì a Midgar, eh, e quindi, anche lei probabilmente, la incontreremo un po', come si è visto anche nei filmati di Ever Crisis, quindi, diciamo, mentre noi stiamo appunto girovagando, verso la zona di Junon, eh, a un certo punto avremo l'incontro forzato, in questo caso, molto probabilmente, con Yuffie. Poi, Vincent si unisce da solo, perché si vede la scena dove, sarà Vincent stesso che sale, praticamente, sulla nostra, sul, sulla nave, o comunque sul Tiny Bronco, probabilmente, e, e dice, appunto, che del fatto che, eh, avessimo, un, una sorta di conto in sospeso con Sephiroth, e quindi lui ci avrebbe accompagnato, e Sid, ovviamente lo reclutiamo, proprio perché, di, di, di trama, e, fondamentalmente, tramite le cutscenes, sicuramente, avremo modo di, eh, recuperare, recuperare anche Sid. Qui abbiamo tutte le sezioni di esplorazione, Cosmo Canyon, Minigiochi che, incredibili, cioè, veramente, minigiochi incredibili, siamo pieni di minigiochi, sto, in sto gioco, e non vedo l'ora di, di poterli approfondire, e poterli giocare tutti, cioè, abbiamo il gioco delle carte, e, abbiamo il gioco, cioè, veramente, incredibile, veramente, incredibile, sta, sta roba, eh, non vedo l'ora di scoprire come, effettivamente, funzionerà, il gioco delle carte, e, è, tanta roba, tanta roba. Qui abbiamo la parata, con Tifa, quella era Tifa, palesemente che, vedete, Tifa, che è praticamente, vestita da soldatessa, in questo caso, e qui abbiamo, lo stesso evento, eh, come quello del ballo, che abbiamo avuto nel remake, dove dobbiamo premere i tasti a tempo, per fare la parata, qui abbiamo altri, vedete, altre meccaniche, dove ogni personaggio, praticamente, ci aiuterà, nell'esplorazione dei luoghi, qui siamo nella, ecco, sentito da Viceroy Saru, ecco, allora, aspettate un secondo, facciamo, facciamo un passo indietro, perché qua ci sono delle cose, di cui dobbiamo parlare, la prima, è questa, ovvero il fatto, che, eh, praticamente, avremo la possibilità, di sfruttare tutti i personaggi, del party, per, diciamo, esplorare, e per interagire, con l'ambiente, quindi, eh, diciamo che, l'esplorazione sarà molto più dinamica, rispetto a quella che abbiamo avuto nel remake, che comunque, eh, non era, incredibilmente soddisfacente, perché, effettivamente, non si poteva saltare, non si potevano fare, diciamo, niente di, eh, non si poteva fare niente di particolare, mentre, invece, adesso, in Rebirth, abbiamo l'abilità di poter fare parkour, l'abilità di poter, in un qualche modo, comunque, sfruttare, praticamente, sporgenze, eccetera, eccetera, quindi, l'esplorazione sarà molto più, eh, soddisfacente, e la cosa che, ovviamente, ci tengo a sottolineare, che, sono comunque informazioni, che abbiamo già avuto, sono informazioni, che, già, abbiamo ricevuto, anche tramite lo state of play, è, praticamente, il fatto, che, tutti i personaggi, ci aiuteranno, nell'esplorazione, quindi, ogni personaggio, avrà una caratteristica, fondamentale, che, ci permetterà, di poter esplorare, i luoghi, nel migliore dei modi possibili, quindi, abbiamo, per esempio, appunto, Barret, che può sparare, Yuffie, che lancia lo shuriken, Tifa, che utilizza il rampino, per potersi arrampicare, eh, Kitesit, invece, che può sollevare oggetti, più pesanti, e li può buttare, altrove, Red, che si può arrampicare, quindi, abbiamo comunque, diverse situazioni, dove dobbiamo sfruttare, tutti i nostri personaggi, per esplorare, nel miglior modo possibile, qui, vedete Eris, che praticamente, usa, appunto, la magia, e qui, ragazzi, qui, ragazzi, scopriamo, che, il tizio, incappucciato, che abbiamo visto, nei vecchi trailer, dove si vedeva, appunto, il tizio, incappucciato, durante la parata, di Junon, che stava, osservando, Rufus, non è altro, che un emissario, del Vutai, e già qui, la situazione, diventa interessante, perché, io dissi già, all'epoca, cioè, all'epoca, nel senso, quando uscì, quel trailer, dissi, appunto, che quel tizio, incappucciato, aveva una grossa probabilità, di essere Glenn, almeno per me, aveva una grossa possibilità, di essere Glenn, la cosa, che un pochettino, qua, mi ha spiazzato, è il fatto, che Rufus, sembra quasi, riconoscere, questa persona, e non credo, che, dal punto di vista, cronologico, Glenn, possa essere, riconosciuto, da Rufus, Rufus, doveva essere, decisamente, più piccolo, e quindi, non credo, che, abbia mai, incontrato, effettivamente, Glenn, o, abbia mai saputo, del progetto, soldier, diciamo, del vecchio progetto, soldier, quindi, non, quelli nuovi, sperimentati, con le cellule di Genova, ma, diciamo, i soldier, appunto, quelli classici, e quindi, quella è una cosa, che un pochettino, mi ha, non lo so, mi ha un po' spiazzato, effettivamente, a meno che, Rufus, successivamente, diventando presidente, abbia avuto modo, comunque, di informarsi, e abbia avuto modo, comunque, di vedere un po', ciò che è stato anche il passato, perché Rufus, comunque sia, è un tipo molto meticoloso, è un tipo che, comunque, non lascia niente al caso, abbiamo visto quanto, effettivamente, Rufus sia intelligente, da questo punto di vista, quindi, potrebbe anche essersi aggiornato, nel tempo, e magari, aver riconosciuto, Glenn, tramite qualche foto, comunque, tramite qualche fascicolo, però, come potete notare, arriva, questo tizio, scalzo, con una barba, folta, perché, ha una barba abbastanza folta, e, il governatore Sarruf, del Vutai, che, non sappiamo chi sia, o almeno, io non ricordo chi sia, il governatore Sarruf, anche perché, l'unica zona di Vutai, che si può esprimere, per esplorare, in Final Fantasy VII, è per l'appunto, la cittadina di Vutai, dove, gli unici, che andiamo ad incontrare, sono, praticamente, il padre di Yuffie, e, beh, c'è, fondamentalmente, come personaggio importante, che io mi ricordi, c'è, c'è il padre di Yuffie, incontriamo, è lì, che noi, poi, effettivamente, incontriamo Corneo, di nuovo, a Vutai, dove, appunto, poi lo sconfiggiamo, definitivamente, e lo ammazziamo, perché, poi, lui, praticamente, cade, dalla statua, e, tecnicamente, dovrebbe morire, però, non, non conosco, il governatore Sarruf, non so, effettivamente, da dove, possa provenire, questo personaggio, però, si presenta, praticamente, scalzo, con questa tunica, tutto, incappucciato, leva il cappuccio, e nel momento, in cui leva il cappuccio, Rufus, sembra quasi, riconoscerlo, e, io, non vorrei, che, non lo so, fosse addirittura, veramente, potrei pensare di tutto, vabbè, il padre, non mi pare il caso, perché il padre, ovviamente, a parte essere più basso, essere più tozzo, ma, non c'entra completamente nulla, però, oddio, non mi sembra essere il padre, perché, effettivamente, non c'entra nulla, però, cioè, Rufus lo conosce, cioè, Rufus vede un fantasma, praticamente, e, quindi, la mia ipotesi, che quello potesse essere Glenn, un pochettino si sgretola, non si, come dire, non si rimuove del tutto, la mia ipotesi, perché, secondo me, Glenn, Matt, e Lucia, si sono rifatti, una vita, a VTi, io sono convinto, che, gli eventi di First Soldier, trattati in Ever Crisis, porteranno, ad un epilogo, particolare, dove, dove, per l'appunto, Lucia, secondo me, potrebbe, anche essere, la madre di Yuffie, si rifà una vita, in VTi, e, appunto, ha una figlia, di nome Yuffie, perché, la somiglianza, è incredibile, tra Lucia, e, e Yuffie, quindi, secondo me, potrebbe, anche essere, sua madre, Matt, potrebbe diventare, uno studioso, comunque, potrebbe, tranquillamente, avere, qualsiasi futuro, lui voglia, data la sua intelligenza, data la sua abilità, dato tutto, e Glenn, invece, potrebbe, anche, creare uno stato, o, comunque, potrebbe, in un modo o nell'altro, diventare, governatore, appunto, di uno stato, affino a VTi, perché, secondo me, affezionandosi a Rose, di, della storia di Ever Crisis, secondo me, Glenn, non riuscirebbe, ad eliminare, degli innocenti, è fin troppo buono, Glenn, quindi, piuttosto che eliminarli, potrebbe metterli in salvo, e, appunto, permettere di formare, un nuovo insediamento, una nuova cittadina, quello che è, a differenza di Sephiroth, che, essendo comunque un soldato, a pieno regime, esegue gli ordini, e fa quello che gli viene comandato, quindi, eliminare, praticamente, tutti, ed è lì, che, potrebbe anche scattare, poi, quella famosissima scena, dove Glenn e Sephiroth, si ritrovano faccia a faccia, proprio perché, Glenn, in un modo o nell'altro, si definisce un eroe, e, e chissà, 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 poi vabbè, qui, ovviamente, Dine, che, giustamente, entra nella sua crisi, di, di mezza età, con, tutto il casino, che combina, praticamente, a Gold Saucer, Marlene, che, si scopre essere, appunto, sua figlia, e non la figlia di Barrett, mentre, invece, Barrett, se l'è cresciuta, proprio perché, appunto, legato, in maniera indissolubile, a Dine, gli fa questa promessa, eccetera, eccetera. ecco, questa è un'altra scena incredibile, vedete, c'è, questa è la scena, questa è la scena, che potrebbe ricollegarsi, a quella dello scorso trailer, dove vediamo, Tifa che cade, perché Cloud, soggiocato da Genova, e dai giochetti, che, appunto, Genova fa con la sua mente, può fargli credere, che veramente, Tifa, non sia Tifa. Se vi ricordate, negli altri trailer, nei primi trailer, si parla anche del fatto, che Tifa venga, considerato un'impostora, che Sephiroth, ripete a Cloud, tutti i ricordi, che io, in realtà, l'ho uccisa, quindi, chi è lei? No? Se vi ricordate, se vi guardate, tutti gli altri, le altre mie reaction, e speculazioni, li vedrete, questi trailer, ve li potrete anche rivedere, e quindi, Cloud, effettivamente, qui potrebbe, essere soggiocato, da Genova, e potrebbe, finalmente, avere il controllo, su di lui. Ricordiamoci, che Tifa, è l'unico ponte, che conosciamo, che possa, in un qualche modo, far rinsevire Cloud, perché è solo grazie a Tifa, che poi Cloud, ritrova se stesso, e riesce, a liberarsi, dal controllo definitivo, di Genova, con l'intossicazione, Mako, eccetera, eccetera, quindi, eliminando Tifa, non si corrono pericoli, praticamente, non si corrono pericoli. non si corrono pericoli, non si corrono pericoli, non si corrono pericoli, ma non sei un uomo, Sephiroth, hey! No, non tu, no, non tu, vedete, Sephiroth, con Zack, dice, no, non tu, e qui, ecco qua, altra scena, che, ha fatto discutere, molto in chat, ieri sera, perché, ne abbiamo parlato, ovviamente, in chat, e, e io sono convintissimo, che questa, sia, la scena, post mortem, di Eris, questa sarà la scena, che chiuderà, probabilmente, Rebirth, o comunque sarà parte, della chiusura di Rebirth, perché, come notate, la materia che tiene in mano, è bianca, quindi, Sancta, è già stata chiamata, è già stata invocata, è già stata risvegliata, mentre invece, la materia originale di Eris, che possiede, lei ovviamente, che possiede nel fiocco, no, che appunto, dice a Cloud, la prima volta che lo incontra, no, questa è una materia che, non funziona, praticamente, inutile, me l'ha regalata mia mamma, e basta, e, e di colore verde acqua, mentre invece, questa è bianca, quindi, secondo me, Eris, è riuscita, magari, in un qualche modo, a risvegliare Sancta, però, Sephiroth la uccide, e questa è la visione, che si vede, post mortem, infatti, Eris, come notate, non possiede il fiocco, perché giustamente, si è già slacciato, quando, Sephiroth la infilza, quindi, si lascia il fiocco, la materia, cade, no, che c'è la scena, dove appunto, poi rimbalza, la materia, nella Forgotten City, però, qui è attivata, qui, Sancta funziona, vedete, la materia bianca, rappresenta Sancta, ed è attiva, quindi, secondo me, sono abbastanza convinto, del fatto, che questa sia una scena, post mortem, di Eris, perché Eris muore, Sancta si attiva, e quindi, sta dando, diciamo, il messaggio a Cloud, probabilmente, nella scena, dove lui poi, lascia andare, il cadavere di Eris, che lo fa appunto, a negare, comunque, nel senso, lo fa sprofondare in acqua, e vede, probabilmente, questa scena, e quindi capisce, e sa cosa fare, per salvare, appunto, il mondo, e di non farlo per me, farlo per salvare il mondo, e te stesso, perché, secondo me, qui, già lei è morta, e poi, abbiamo ovviamente, la parte finale, con Sephiroth, che, probabilmente, sarà nuovamente, boss finale, anche di questo capitolo, noi affronteremo, Sephiroth, praticamente, sempre, tranne, tranne, probabilmente, nell'ultimo progetto, perché, nell'ultimo progetto, sono convinto, affronteremo Genova, io, rimango dell'idea, che Genova, sia, ovviamente, il cattivo, di tutta la storia, e che sarà anche il boss finale, di tutto il percorso remake, quindi, tutta la trilogia remake, si concluderà con uno scontro, verso Genova, dove Sephiroth, possibilmente, Zack e Cloud, tutti e tre, una volta, ripreso in mano, il loro destino, potranno, in un qualche modo, debellare, il vero male, del mondo, perché, noi sappiamo benissimo, che è Genova, il vero cattivo, è Genova, la calamità provenuta dal cielo, è Genova, che ha preso controllo, del corpo di Sephiroth, o, in un certo senso, ha preso, le sembianze di Sephiroth, è Genova, che manipola, la mente di Cloud, è Genova, che fa tutto, cioè, il gioco, ci mette, costantemente, contro Genova, solo che, ce la fa vedere, in diverse forme, quindi, è molto probabile, che nell'ultimo capitolo, il boss finale, il vero boss finale, sia Genova, ma, tutto quello che stiamo facendo, in Remake, e in Rebirth, potrebbe, tranquillamente, essere il trampolino di lancio, che giustamente, ci porterà verso la parte finale, e il titolo di Rebirth, potrebbe, tranquillamente, riferirsi a Cloud, proprio perché, Eris, parla proprio, di salvare il mondo, di salvare tutti, e di salvare Cloud stesso, perché Cloud, è quello che, rischia di più, di essere soggiocato, da Genova, e quindi, perdere se stesso, e, e qui, ragazzi, io sono abbastanza, sicuro del fatto, che Eris, morirà, qui vedremo, la fine, di Eris, Eris, compierà il suo destino, ragazzi, e, sono abbastanza, convinto di ciò, molti sono convinti, del fatto che Eris, sia, sia viva, ritornerà in vita, eccetera, eccetera, io penso di no, io penso che Eris, comunque, sia, morirà lo stesso, e, e noi, dovremmo, in un modo o nell'altro, poi, affrontare Genova, e, e finalmente, debellare, debellare il male, che abbiamo avuto, in tutto questo, diciamo, in tutto questo tempo, comunque, trailer, assolutamente, fantastico, è vero che si sono viste tante cose, però, ricordiamoci anche che i trailer, hanno questa funzione, un po' di confondere le idee, quindi, non prendiamo tutto, ovviamente, per scontato, non prendiamo tutto per certo, prendiamo sempre tutto un po' con le pinze, e tutto quello che, ovviamente, vogliamo interpretare, nella maniera corretta, questa, è la mia interpretazione, e questa è la mia visione, del trailer, prima, ovviamente, di quello finale, vi allegherò anche, tutti i miei video teorie, e tutte le mie analisi, dei vari trailer, anche per, diciamo, fare un discorso unico, per chi, magari, lo vorrà seguire, detto ciò, io vi ringrazio, per essere stati con me, spero che il video, possa esservi piaciuto, fatemi sapere, ovviamente, cosa ne pensate, di tutto questo, e, come sempre, ci becchiamo alla prossima, bye bye! a tutti i miei video,